ecco lo che ritorna alle spalle attenzione durerà millesimi di secondo che ritorna da esta con le luci di atterraggio accese basso e altissima velocità bellissimo il passaggio letto avremo più secondi per vedere l'eleganza di questa macchina è il pilota negli occhi mi dicono non vedo l'eleganza eccolo qui guardate che bello con i flap estesi ovviamente per permettere è una velocità inferiore che bello dell'eleganza vicino l'esercizio No! No!